Fede mi sa tanto che siamo finiti in paradiso perché... Ma che ci facciamo qui? Non lo so, non lo so Fede, dimmi Siamo morti? Eh, penso di sì Come siamo morti? Quando è che siamo morti? Eh non lo so, ma questo è chiaramente il paradiso, guarda che bel posto che è Fede, è molto carino Eh, l'ho capito, ma non capisco perché siamo qui, è quello che mi fa strano Se il posto è carino, che te frega? Alla fine, anzi, viviamo in un posto migliore di prima, Fede, guarda Ti avrei preferito andare all'inferno, Stef No, Fede, ma stai zitta, per favore Guarda che bevi fiorellini, è tutto così che... Uno zombie, no, ci sono anche in paradiso Eh, appunto, è tutto troppo bello e luminoso, Stef Volevo stare tra le fiamme Buongiorno Dio, Fede non è molto felice di essere qui, io sì, quindi parlerò con te Ok Allora, ciao Stef il Magnifico, benvenuto in paradiso Ecco qui Grazie mille Prima di poter vivere in questo stupendo, meraviglioso, stupefacente, magnifico regno Ok Ok Dovrei provare il tuo valore contro dei temibili demoni Ma sei sicuro? No, perché? Io neanche ci volevo stare qui Eh, sai Mi hanno costretto Esatto Mi hanno portato contro la mia volontà Alla fine E poi perché in paradiso dobbiamo scontrarci con dei demoni? Beh, forse bisogna dimostrare di essere meritevoli di stare in questo paradiso Ma non dovresti meritartelo, vabbè Sopra ci sono delle ordate di demoni che aspettano di entrare in paradiso Dei cancelli del mondo sotterraneo Dovrei affrontare cinque ondate, man mano diventeranno sempre più forti e temibili Ma non temere, con il progredire delle andate potrai progredire anche il tuo equipaggiamento Ok Sembra spaventoso Tutto molto chiaro, tutto molto chiaro Sarà una sfida L'equipaggiamento è dietro di me, dentro le ceste Prendilo e sali per le scale Affronta le cinque andate e dimostra di essere degno di questo meraviglioso, stupendo, incredibile, stupefacente, magnifico, incredibile, super carino regno Le ha aumentate Sì, sì, le ha aumentate È chiaro come sole che le ha pure aumentate Io non ho parole Non ci si dovrebbe vantare, sa? Cioè, alla fine dovrebbe dire È bellissimo e finisce così E la gente dovrebbe andare qua e dire Oh mio Dio, è bellissimo, senza che tu lo dica, capito? Io inizio a prendere il mio equipaggiamento Anche io Ma perché abbiamo una gonnellina entrambi, Steph? Non lo so, non lo voglio sapere, francamente Allora Cioè, per me va anche bene, ma per te No Se l'equipaggiamento deve essere così brutto in questo posto, francamente, io penso di volermene andare Mi sa che avevi ragione tu con l'inferno, almeno lì le armature sono fighe, per forza È quello che ti dicevo fin dall'inizio, Steph Ma ti sembra che qua come guerriero devi stare con la gonna? Però Cioè, per me va anche bene, ma te hai la gonnellina, cioè, capisci? Questa spada Eh Dice che, leggi Ok Powerful God Sword Tactics Knocks Backs Opponents Quindi praticamente una spada d'oro molto potente che dovrebbe sbalzare i nemici Dovrebbe sbalzare l'indietro Quindi forse sbalza più del solito, vabbè Vabbè Stiamo a vedere Andiamo a provare le scale Dobbiamo salire di qui, l'arena è qui L'arena è qui Ok, va bene, saliamo le scale Ci sono delle indicazioni molto chiare, quindi mi sembra tutto Continua a salire Continuiamo a salire Sono tanti scalini, è già questo un grande allenamento, caro signor Dio Ok, l'arena è qua L'arena L'arena è qua Ok Allora, buongiorno Salve È un po' piccola questa arena 3, round 4 Non vedo il round 5 Probabilmente sarà da un'altra parte Però il round 1 è questo Ok Premo Vai Sicura? Così iniziamo a vedere di cosa si trattano queste sfide Oh cavolo Steph Sì, li sbalzo molto all'indietro, ma sono tanti Steph, eh Sono tanti Beh, la nostra armatura sembra abbastanza forte Fede No, forte è forte Steph, ma sono troppi Fede C'è mi aspettavo qualcosa di molto semplice Io sto per morire, sono bloccato in un angolo Salta Non riesco Sei morto? Quasi Io qualcuno lo sto facendo fuori Steph Ma sono tanti Dovrei mangiare Aspetta, fammi mangiare Ok, sono riuscito a mangiare Via, 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 via Adesso, ve ne siete troppi Cioè quando ha detto ordate Intendeva ordate per davvero Steph Sì, a quanto fare sì Vi prego Fare, ti prego Amazzone un altro po' che così non muoio Ma sono morta Sono morta Sono morta E mi sa anche io Fare Eh Questo è l'inferno Non è il paradiso Sì, infatti secondo me è l'inferno camuffato Perché qua non è possibile Ok Ti ripeto Mi aspettavo E ora come la riprendo Vi prego Vi prego Oh mio Dio La spada Ok Io non so come faccio a riprendere le mie cose Ci muoio Morto Siamo fregati Non so più come fare Siamo letteralmente fregati Assolutamente Già la prima ondata Ascolta Se ci facciamo ridare l'armatura Dai Facciamo ridare Cioè Dai Via, via Steph Farà gentile Su Forza Forza Arrive Sennò prendiamo quella dell'ondata 2 No, non si può barare Non si può Nei combattimenti non si bara Nonostante io non voglia stare qui Però non si bara Ok, allora Per favore Ci risterebbe l'armatura La prego Per favore Non possiamo più fare figuracce Guarda Adesso dobbiamo fare Ma per favore Tutte le altre ordate E mica l'abbiamo fatto apposta Steph Cioè è difficile per davvero Allora Piano piano Steph Ok Affrontiamo quelli che arrivano uno alla volta Dovremmo cercare di sfruttare meglio il knockback No? Infatti io li sto sbalzando fuori Il problema è che sono tanti Sono talmente tanti Capito? Che se ne sbalzi uno Non è che ti cambia tanto Capisci? Esatto Esatto Comunque fuori prendono fuoco Steph Sì, sì Infatti Si deboliscono Ti dirò Non è per niente male Ok Esatto Non è il modo più leale Di fare quest'ondata Però È specificato da qualche parte Infatti non ci sono Non ci sono regole Devo mangiare Direi che possiamo andare Aia Che male Mi sono fatto malissimo Mi sono anche dimenticata Che dobbiamo Dobbiamo cambiare armatura Io non mi dimentico Ci stavo giornando dritta Io non mi dimentico Ok Con questa mia brutta Ma sto scendendo dalla parte giusta Sì Eccomi 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 Allora queste cose qua Che fanno un po' schifo Le butto via Poi Buttiamo via la vecchia armatura Mi metto la nuova E la nuova spada Sembra fortissima Si chiama Sword of Oat Ok Of Oat Fere Capisci Ce l'ho Ah ma lo schifo Sulle tue cose Ok perfetto Grazie Ma l'armatura è la stessa? Eh no Un po' migliorata Ok Allora me la cambio Aspetta Ok Bam 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 Io Sono arrivato Sono arrivato On data numero 2 Aspetta Steph Non rompere Avvio Devo buttare tutto eh Ho la spada nuova Ok A posto Arrivo Vado? Non ho la carne Dove l'ho dimenticata Steph? Oh mamma mia Steph mi stai mettendo ansia Mi stai rompendo le scatole Stai un po' zitto Per favore Con la mia carne Il paradiso con ferie Diventa l'inferno Infatti te l'ho detto Non ci volevo stare qui Quindi non mi rompere Neanche volevo fare queste sfide Vabbè non l'hai scelto Ormai lo devi fare Vado? Sì Ci sono ci sono Vai Questo non è bello Questo non è bello Gli scheletri forse sono anche peggio Mangia 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 Ok 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 A me sembra Che questa armatura è più forte Che signora Che il nostro assistente è segreto Signora assistente Signora assistente Mi stavo uscendo Abbiamo un po' Pere Che c'è? Hai mi sclicato tu O mi hai sclicato io? Hai mi sclicato tu Esci fuori Esci fuori Così almeno bruciano Almeno bruciano Mi hanno intrappolato Steph Addio Fere Trovi l'altro equipaggiamento Nelle ceste Io cercherò di sopravvivere Ah no Mi hai lasciato tutto Mi hai lasciato tutto a posto Questo è un bel problema Questo È un bel problema Ok Però lì Mai visto quanto spazza Questa spada? Sì Ok Ma sono depresso Steph Ah sei morta solo tu Quando mori solo tu va bene Quale la vita doveva essere Semplice Felice Perché c'è un pollo Con gli angeli Ah c'è lo zombie sopra Ok non lo vedevo Dovevamo passare le giornate A prendere il sole Non ti sembra? E quella è la fase 2 Cioè è così che ti immagini Il paradiso No? Non è che te lo immagini Peggio dell'inferno Steph Prima la conquisti E poi lo tieni Ci sta No non devi conquistare nulla Se già sono qui vuol dire Che mi sono comportata bene Per tutta la mia vita Quindi ho già fatto abbastanza No? Spera che si comporta bene Mi sembra già impossibile Invece sì Secondo me vedi che sempre Vabbè È perché sapevano Come ti comportavi nella vita Comunque raga Sta spada È eccezionale Bellissima Bellissima Abbiamo riaffrontato L'ondata 1 Più l'ondata 2 In contempo all'aria Un pollo su un pollo Ecco qua Cioè uno zombie su un pollo Sì lo so Porca miseria L'ho detto pure L'abbiamo fatta sì? Sì Oh che disastro qui dentro Sì vabbè Lascia perdere guarda Dove è andato? Se esassi la spada Che abbiamo in questo momento In campo aperto Rimarresti scioccata Per letteralmente scioccata Io mi lancio Addio Ok Guardate quante frecce Mi hanno conficcato Porca miseria E direi stessi pieno Ok Adesso c'è Allora Bello questo Bello Interessante Abbustiamo le cose Che non mi servono Allora E cambia anche l'armatura Ma quando è che non avrò Una gonnellina qua Scusate Mai Steph Mai Ormai sei signor Signor gonnellina Appaventure sword Made of demon Crystal That sets opponents On fire Ok Andiamo Andiamo Oh mio dio Oh mio dio Abbiamo la demonic sword Combinata All'arco di Apollo Ok Qua facciamo Qua spacchiamo tutto Qua spacchiamo tutto Ok Manomale Tutto Io mi sono conservata Anche le frecce Che mi hanno dato gli scheletri Perché sono tante Sai com'è Me lo conservo pure Ottima idea Ottima idea Potrebbero Cosa mi ha colpito Non lo so Sono stato colpito a qualcosa Vabbè Round 3 Ah qui c'era uno schelto Mi hai fatto spanare Me li hai fatti spanare addosso Ah però in round 3 erano due bottoni Mi sono Accorto E fammelo premere Oh grazie Oh mamma mia Ma non potevamo finirne una E poi premevi la seconda Steph No Però che bello Li facciamo bruciare tutti Sì ma Steph Me li hai spanati in faccia Io sono intrappolata No fare Sì sono intrappolata No no stai benissimo Stai benissimo No non sto benissimo Anche io sono intrappolato Hai ragione Hai ragione Morite Morite Perché non muoiono Non lo so Sono fortissimi Poi non vedo niente Vedo solo il loro fuoco Mangia Steph Sono pure morta Perché tu mi li fai arrivare in faccia Arrivo Torro Vi prego Vi prego Piano piano stanno morendo Ne vedo morire No No Ho tutti quelli che picchiavano anche a Ferri Ti prego arriva ad aiutarmi Sto salendo Steph Sto nelle scale Sto resistendo io Sto resistendo Sono anche qui fuori È un po' difficile per quello No È pieno di mostri Anche qui fu No Ma guardali tutti addosso Oh cavolo Adesso corrono tutti addosso a me Via 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 Ma sono ancora tanti Sì Steph Cioè ma non li facciamo danno allora Non li stiamo facendo danno Altro che demon X sword qui Ma cosa Ok Io tiro frecce Oh Mi incastrano nei posti Sì infatti non devi rientrare nell'arena Devi starne fuori E oh mio dio quanti sono È quello che stavo cercando di dirti Steph Ok non avevo capito Ok non avevo capito che eravamo Questo di morire di nuovo Cioè l'ondata 3 È impossibile Già È impossibile Ok Basta Non mi sopporto più Via 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 Ok Ok Io mi sto uccidendo comunque Piano piano Dovevo mangiare se non muoio Ok Te ne sto togliendo Te ne sto togliendo Ok Ok Ti prego Resisti Abbiamo quasi fatto Abbiamo quasi fatto Lo so Sono gli ultimi Sono gli ultimi Lo so Dai 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 Ce la fai a sopravvivere Sì Ma Steph ce ne sono altri qua Oddio Vai via Sono un po' incastrati ovunque Mettiamola così Sì sono un po' incastrati Sono un po' ovunque Letteralmente Ok È stata una faticaccia questa Faticaccia è poco Secondo me Mamma mia Faticaccia è poco Vabbè Devo mangiare Devo mangiare Ordata numero 3 Andata Allora io continuo A lanciarmi da qui Che secondo me È più comodo Buongiorno Abbio Ci stiamo divertendo D'avere un sacco Eh ma proprio Ah no aspetta Però l'arco io me lo tengo Beh in effetti Nessuno ci dice Che non possiamo Uh Bene Uh Belli sti stivaletti Aspetta che L'arco me lo tengo pure Io questo via 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 E anche la mia vecchia armatura La depositiamo qua Fede Che succede? Abbiamo un problema Stai saltando da una parte all'altra? Peggio Cioè? Indossa gli stivali Oh Bello però Bello Secondo me però Non è un vantaggio Muoversi così veloce Quell'arena così piccola Però almeno facciamo Oddio Non riesco neanche a fare le scale Steph Uh C'è troppo Aspetta piano Dove sei finito? Non andare così lontano Ok Cammina con Steph Con contro Con coltro Coltro il premuto Cioè andiamo più veloci Nel normale anche così Sì Però va meglio Ondata numero 4 Vado? No Oh no Oh no 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 Ci mancavano solo loro È una terribile giornata Ecco perché abbiamo questi stivali per saltare e per colpirli quando volano Ah ecco E poi io non vedo nulla perché sto bruciando Non era fatta a caldo sta roba Non era fatta a caldo Cioè non riescono neanche a colpirci da questo siamo veloci Uh Ok ce la sto facendo Questa è abbastanza semplice perché riusciamo a prenderli No secondo me perché abbiamo un'armatura troppo forte Eh ci sta pure Steph con tutto quello che abbiamo passato Miam 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 Come se non fossimo morti abbastanza nei round precedenti Lo so È morto? Mangio Finiti Sì ce l'abbiamo fatto Good job Andiamo Oddio 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 è troppo Ok ultimo round Steph Ok Finalmente l'ultimo round Allora aspetta che rimagno Ferre Allora L'ultimo round A parte che cosa ci dà come spada? Sword of AIDS Uh Balla Wow Sword of AIDS Tutto il resto è uguale? Sì No? L'armatura mi sembra un po' migliorata no? Un po'? Leggiti la descrizione va? Cioè Eh sì ci sono sapete È un qualcosa di fenomenale Ok Dicevo il round 5 si fa addirittura qui perché Abbiamo già capito cosa è Dobbiamo pure farlo noi Ok eccolo 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 Cavolo Sta fa un disastro Steph Eh vabbè Ferre ma l'Apollo gli fa un botto Se riesci a colpirlo perché comunque è veloce Lo distruggi Con l'arco giusto? Sì 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 Vai 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 ce la possiamo fare È difficile da colpire perché non sta fermo un attimo però Quando lo prendi fa un botto di danno Perché ce l'hai con me? Vai via È meglio che ce l'abbia con te Così lo colpisco vai vai tranquillo Ok ho capito come fare Lo sto chitando e nel mentre lo colpisco Ok Vai Apollo Vai Apollo Vai Apollo È fortissimo Oddio 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 Aspetta è sceso è sceso Quindi spada spada Boom Siamo più forti di tutti Vi è qua Ce lo stiamo facendo Steph Vai picchia Con il potere di Dio nelle nostre mani Non puoi sconfiderci Ok Ci abbiamo fatta Steph no? Sì Superati tutti i round? Sì Qual è il nostro premio adesso scusami? Perché vivere qua non mi basta eh Cioè voglio qualcosa di bello È stato molto complicato Io pensavo Basta me ne vado via Ah no Siamo su delle isole fluttuanti Steph Rimarremo Rimarremo qui per sempre Intrappolati Ok ok ci sono dei creeper Ci sono dei mostri un po' brutti qui sotto Lasciali perdere Io sto cercando di picchiarti Ma vabbè Mettila In ogni caso ce l'abbiamo fatta Quindi ci siamo conquistati Il nostro posto nel paradiso Siamo stati formidabili È stata una sfida difficilissima Io non ci capisco niente Con le ultime armature e poteri È stato decisamente più semplice Per fortuna Ovviamente E quindi ci siamo riusciti Oh mio dio Cioè guardate quanto posso andare veloce Fantastico In ogni caso ci fermiamo così per questo video Speriamo che vi sia piaciuto Fatecelo sapere con commenti Like eccetera eccetera Ci vediamo in un prossimo video Ciao ciao